La politica non crea ricchezza, ma distribuisce ricchezza. In un programma televisivo io avevo portato in studio questa mucca, che devo dire che è un po' in difficoltà, perché dovevo essere assistita da un veterinario perché non fosse maltrattata. E la mucca rappresenta quindi la produzione della ricchezza. È un bel secchio di latte il prodotto di questo lavoro. Quindi aveva una specie di balconcino con tanti bicchieri e con un mestolo intingevo questo latte e lo versavo in questi bicchieri che dicevano pensione, sanità, scuola. Il mestolo è il potere politico che decide quanto latte versare nelle varie cose. E chi ha il mestolo in mano è poi quello che decide anche i dosaggi. La politica ha altri ruoli, quello di governare questo sistema così complesso e poi di permettere al sistema di riprodursi, di migliorarsi e quindi di investire sul futuro.